È stata inaugurata a Bari l'Academy Talent Acquisition Hub, realizzata da Talenti, l'agenzia per il lavoro che supporterà Deloitte Italia nell'assunzione di mille giovani. L'iniziativa mira a formare e creare nuove professionalità. Sono previste oltre mille persone da formare, con un occhio di riguardo per le competenze tecnologiche, digitali ed economiche. Deloitte, viene spiegato in un comunicato, ha scelto Talent Acquisition Hub per formare e selezionare il personale del suo nuovo progetto pugliese, denominato Next Hub. Il sogno di ogni imprenditore, commenta Domenico Rabona, CEO e founder di Talenti, è realizzare un progetto non soltanto di successo, ma con un impatto sociale importante. È per questo che vado così fiero di Talent Acquisition Hub, la nostra nuova academy. Una vera novità nel mondo del lavoro nel Sud Italia. Un progetto che guarda i tanti talenti del nostro territorio, con la speranza di trattenerli e formarli vicino casa. La collaborazione con Deloitte premia questa visione, spiega Filiberto Antignani, direttore marketing dell'agenzia.